Come stai, Piero? Meglio che in gabbia, boss. Devo ringraziare te per la mia scarcerazione anticipata. Diciamo che ho concepuito la riapertura dell'invagine. Che hai intenzione da fare adesso? Voglio trovare quel bastardo che mi ha mandato dentro. E voglio assicurarmi che non parli mai più. Vecchio schifoso, nessuno può uccidermi. Mi hai sentito? Nessuno! Vecchio schifoso, nessuno può uccidermi. a bit from this and of course subscribe and hit the notification button if you are new to the channel and want to be notified every time I post a video.